Siamo stati selezionati da Marcello Smarrelli per l'edizione di quest'anno del premio Casoli. Vince un artista in questo premio e non vince un'opera che già esiste. Chiave per l'idea che poi è sorta di realizzare quest'opera per un luogo che è in realtà un luogo conviviale all'interno di Elika. Si è prodotta questa idea chiave durante il workshop, è costruito intorno all'idea dell'ascolto e della narrazione reciproca. Quel giorno abbiamo fermato il tempo, diciamo. Siamo passate da una fase in cui non sapevamo cosa dire ad essere un fiume in piena. C'è stata una condivisione profonda. Non c'era la paura dei giudizi e dei pregiudizi. Vorrei capire da tutte le cose che ci siamo raccontate, alla fine che cosa è stato estrapolato. Secondo me è uscito un concetto. Mi aspetto che sia una frase sibillina, provocatoria. L'idea di un testo luminoso ha preso la forma di questa citazione che dice che il personale è politico, naturalmente con l'ambivalenza della parola personale, perché il personale è anche il personale che lavora in azienda. Comunque è una frase uscita veramente dal workshop. Ci fa sentire protagoniste, mettiamola così.